Ben trovati. Come tutti saprete, dal 6 novembre sono in vigore nuove restrizioni per tentare di frenare la crescita dei contagi. Vediamo le misure principali per la Lombardia, che è stata individuata come zona di massima gravità, ovvero zona rossa. La cosa più importante è la raccomandazione di restare a casa. Non sono consentiti spostamenti in entrata e in uscita dai territori o anche all'interno dei territori, salvo che per validi motivi di lavoro, salute e urgenza. In caso di controllo gli spostamenti devono essere giustificati con l'autocertificazione. Suggerisco, se proprio è necessario spostarsi, di avere con sé qualche copia di autocertificazione con i propri dati già compilati, da utilizzare in caso di controllo, indicando al momento il motivo dello spostamento. Molte categorie di negozi sono chiusi. Restano aperti negozi di alimentari, farmacie, beni di prima necessità e alcuni servizi essenziali. Trovate l'elenco completo sugli allegati pubblicati anche sul sito del Comune di Bimercate, dove trovate anche il facsimile del modulo di autocertificazione. I bar, i ristoranti, le pasticcerie, gelaterie, pub sono chiusi. Questi negozi possono fare servizio da asporto fino alle 22. Questo significa che è possibile accedere solo per ordinare, pagare e prelevare i prodotti, ma non si può consumare o sostare all'interno e neppure nelle immediate vicinanze. È consentita l'attività motoria, come le passeggiate, solo nei dintorni della propria abitazione, con l'obbligo di indossare la mascherina e mantenere le distanze, mentre l'attività sportiva è consentita all'aperto, con ampie distanze e in forma individuale. Tutte le attività lavorative e di studio che lo consentono vengono svolte da casa, ad eccezione delle classi fino alla prima media. A questo proposito, per qualsiasi necessità di accesso ai servizi comunali, vi invito a prendere contatto telefonico o via e-mail per poter risolvere le vostre necessità a distanza o verificare la possibilità di accedere agli uffici su appuntamento. Tutti i negozi possono fare servizio di consegna a domicilio, senza particolari restrizioni di orario, se non quelle proprie di servizio. Anche la nostra biblioteca sta organizzando un servizio di consegna e restituzione in modalità da asporto e consegna a domicilio. Vi invito a verificare gli aggiornamenti sul sito del Comune di Vimercate, dove trovate anche l'elenco dei negozi che offrono questi servizi. Questa ulteriore restrizione delle attività mette i nostri commercianti di fronte a uno scenario più duro di quello della primavera scorsa, perché molti di loro hanno già speso risorse per superare quel primo momento. Cerchiamo di essere solidali con loro e far sentire la nostra presenza e il nostro incoraggiamento. Veniamo ai numeri che descrivono la situazione sanitaria. Gli ultimi dati ufficiali sono di giovedì 5 novembre e rilevano 143 nuovi contagiati nell'ultima settimana. Si tratta di un numero impressionante se confrontato con gli aumenti registrati nelle passate settimane. Nel mese di ottobre siamo passati da 1 a 5, poi 25, 51, 103 e adesso 143 nuovi contagiati su una settimana. Capite bene che non potevamo evitare misure più dure per cercare di frenare questa crescita. Crescono fortunatamente anche i guariti, ma non così tanto da superare i malati. Questa settimana registriamo 64 guariti, con un totale di cittadini tuttora positivi di 233. Purtroppo, dopo due mesi, questa settimana registriamo anche due decessi tra i cittadini positivi al virus. Abbiamo sperato che questa ondata non fosse così aggressiva come quella di primavera, ma la perdita di due persone ci dice che dobbiamo stare in guardia. Al 5 di novembre risultano ben 241 persone sottoposte a quarantena domiciliare. Questo numero cresce in modo impressionante, sicuramente anche per effetto delle misure che fino ad oggi sono state adottate nelle scuole. Ci risulta infatti che siano 42 le classi scolastiche di scuole di bimercate di ogni ordine e grado che sono state poste in quarantena in queste settimane, anche se 22 di queste hanno già terminato il periodo di restrizione. Voglio condividere anche un'altra indicazione che ci aiuta a comprendere il rischio di questa situazione. Nel nostro ospedale di bimercate sono ormai oltre 150 le persone ricoverate o in attesa di ricovero per il covid e questo significa che i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario sono sottoposti a carichi di lavoro elevati per dare assistenza a questi pazienti e di conseguenza diminuisce la capacità dell'ospedale di offrire servizi per le altre necessità. Dobbiamo ringraziare e riconoscere lo sforzo del personale sanitario e dobbiamo cercare di adottare ogni precauzione contro il contagio per alleggerire la situazione. Per fortuna posso condividere con voi un messaggio rassicurante che arriva dalla casa famiglia San Giuseppe alla quale va il mio abbraccio affettuoso. È stato effettuato di recente uno screening di tutti gli ospiti e il risultato è che fortunatamente nessuno risulta positivo. Ci sono importanti limitazioni alle visite agli ospiti del San Giuseppe ma questo serve a tutelare la loro salute. Voglio sottolineare che le misure che sono state adottate per cercare di limitare al massimo le occasioni di contagio tra persone funzionano solo se le viviamo con atteggiamento responsabile. Non possiamo pensare che occorra un poliziotto o un vigile ad ogni angolo della città per imporci il rispetto delle regole e neppure che le deroghe consentite per gli spostamenti rappresentino una garanzia di immunità al contagio. Ogni occasione di contatto è un rischio. Pensiamoci bene prima di correre questo rischio e adottiamo tutte le misure possibili per evitare di esporci. È veramente triste dover vivere nuovamente questa situazione perché ci trova ancora più smarriti e stanchi di quanto non fossimo a primavera. Voglio per questo invitare tutti a dedicare attenzione ai propri vicini, ai propri ragazzi, alle persone più anziane o più fragili e a quelli che sono più spaventati. Abbiamo ancora bisogno di sentirci uniti, presenti, fiduciosi nel futuro nonostante tutto e parte di una comunità attenta a tutti. So che si stanno attivando già molte iniziative per supportare le tante necessità come i servizi domiciliari o la consegna dei farmaci a domicilio ma ci sono anche iniziative che cercano di aiutare le famiglie, i genitori e i ragazzi a affrontare al meglio questa situazione. Voglio quindi ringraziare Don Cristiano con il quale ci siamo sentiti in questi giorni e abbiamo condiviso la preoccupazione per i nostri ragazzi che non riescono a vivere momenti di socialità e relazione tanto preziosi per la loro crescita. Sono contento che abbia messo a punto una proposta di aiuto ai genitori. Mercoledì 11 e venerdì 13 novembre alle 20.45 vengono proposti due incontri in videoconferenza, il primo dedicato ai genitori dei ragazzi delle scuole elementari e il secondo a quelli con figli alle scuole medie. Agli incontri parteciperanno la dottoressa Zanetto, esperta pediatra di Vimercate e la dottoressa Guzzi, pedagogista e formatrice. È un'occasione per affrontare i risvolti pesantemente negativi che possono verificarsi nella vita dei nostri ragazzi e mettere in campo il meglio per affrontare questo tempo difficile. Vi saluto ricordandovi che domenica 8 novembre è dedicata alla celebrazione della giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. A causa delle restrizioni in corso non è prevista la consueta cerimonia pubblica. Deporrò la corona a monumenti ai caduti della città in forma strettamente riservata e potrete seguire in diretta Facebook sul canale del Comune il momento di deposizione in Piazza Unità d'Italia previsto per le 11 circa. Con questo rinnovo l'invito alla massima prudenza e vi saluto dandovi appuntamento alla prossima settimana. Grazie.